E prosegue suscitando un largo interesse l'iniziativa Tetto Perfetto, un concorso speciale che mette in palio sei impianti fotovoltaici da 3 kW picco gratuitamente installati e messi in funzione da parte di un'azienda specializzata nel settore. Le sei famiglie locali avranno così la possibilità di annullare per ben 20 anni il costo della bolletta elettrica, le iscrizioni sono aperte fino al 26 febbraio e la partecipazione alla selezione è aperta a tutti i possessori di un'abitazione privata. Sentiamo un'intervista. Tetto Perfetto è un'iniziativa energia che si pone ovviamente come obiettivo quello di divulgare ancora di più il fotovoltaico nei tetti insomma delle famiglie dell'Interland di Canicattinese e della stessa cittadina di Canicattì. Ovviamente è un'iniziativa anomala rispetto ad un'azienda privata perché l'impianto fotovoltaico che verrà realizzato gratuitamente sul tetto di queste famiglie avrà la possibilità di fornire approvvigionamento di energia elettrica senza nessun costo per le famiglie stesse. Nello specifico gli impianti che verranno realizzati avranno una taglia di circa 3 kilowatt quindi è stata scelta apposta questo tipo di taglia perché è la taglia che consente ad una famiglia media di sopperire i propri consumi domestici. Infatti un impianto a 3 kilowatt nelle nostre zone, quindi zone ben soleggiate, produce circa 4.500 kilowattore all'anno cioè il consumo medio di una famiglia di 4 persone. Un impianto di questo tipo ha un suo valore commerciale, un valore anche abbastanza importante. Ricordiamo che l'impianto viene realizzato gratuitamente in energia e il valore commerciale è di circa 14.000 euro. Le spese di manutenzione e l'intera gestione dell'impianto è sempre a carico di energia ed è fatto ovviamente solo nell'esclusiva visione di dare un messaggio chiaro sul fotovoltaico alla cittadinanza. Accedere all'iniziativa Tetto Perfetto è veramente semplice, basta consultare il sito www.bibolletta.it oppure telefonare al numero della nostra azienda 0922 85 8410 e reperire tutte le informazioni utili. Tra l'altro nel sito è anche indicato un modulo di iscrizione, il regolamento e quant'altro possa essere informazione utile per realizzare questa iniziativa. La selezione viene svolta a partire dal 26 febbraio, data entro la quale dovranno pervenire sia i documenti relativi e sia comunque le segnalazioni e le volontà di adesione a questo concorso. Tutti coloro che abbiano quindi presentato domanda entro il 26 febbraio saranno selezionati, verrà fatta una visita sul loro edificio, nello specifico sul loro tetto e verrà scelto il tetto perfetto. Ne verranno scelti 6 e quindi questi 6 tetti avranno la possibilità di vedere realizzato un impianto fotovoltaico della potenzialità di 3 kW a titolo gratuito e potranno godere dei benefici derivanti da questo impianto fotovoltaico per 20 anni e poi con un semplice riscatto di 1 euro, un riscatto simbolico ovviamente, addirittura entrarne in possesso completo.